Recuperare in digitale con un lavoro prezioso, libri e quaderni rari e logori. E questo è il progetto Scuola Lavoro Bibliattiva, che ha impegnato nella Biblioteca Concetto Marchesi di Mister Bianco nove studenti delle terze classi della specializzazione informatica dell'Istituto Cannizzaro di Catania. Un progetto di pubblica utilità. Dopo aver frequentato un corso di preparazione teorica a scuola per conoscere diversi dispositivi hardware, le tecniche e le tipologie di file adatte alla digitalizzazione, gli studenti, accompagnati dalla tutor Giuseppe Rito, hanno digitalizzato libri rari, non più in ristampa. Patrimonio della tradizione storica mister bianchese, che a causa dell'usura del tempo non potevano essere fruiti dagli studiosi. L'operazione ha interessato anche alcuni quaderni ormai logorati e scompaginati, che ancora oggi rappresentano una valida fonte di consultazione per coloro che approfondiscono la ricerca storica su Mister Bianco.